buonasera buonasera io lo sapevo che il mio video di oggi avrebbe scatenato delle risposte posso dire che mi aspettavo in alcuni casi eccolo qua l'avvocato eccolo qua che lo difende ma quanto ti paga ma se il suo assistente e sono le risposte di chi sicuramente non è andato a vedersi la conferenza stampa che vi avevo segnalato di andarvi a vedere ok nella quale tra l'altro si aggiunge che non fosse proprio in quella ma anche l'altra successivamente dice se volevo vincere andavo subito al real madrid se volevo vincere subito andavo real madrid tra l'altro comunque l'atteggiamento di fondo qual è non andarsi a vedere la conferenza stampa quindi non avere l'argomentazione per non poter essere smentito e continuare a dire che io sono l'avvocato di allegri eccetera questa è superficialità lasciatemelo dire ma non ma ma da alcuni me l'aspettavo e me l'aspettavo pienamente perché funziona così non si vuole approfondire e si vuole restare della propria idea non si va a verificare e si vuole continuare ad essere la propria idea e non si ammette ovviamente perché non andando verificare non si può ammettere il contrario di ciò che si pensa no si prosegue sulla stessa lunghezza d'onda senza andare a verificare chi si comporta così è esattamente come si è fatto in questi anni idea che la juve ruba e gli altri no che la juve fa le plusvalenze illecite e gli altri no che è giusto condannare la juve gli altri no siete uguali cioè non andate a verificare non andate a puntualizzare non fate ciò che ma non solo il giornalista perché il giornalista ha il dovere di verificare e io l'ho fatto quest'oggi ok non avete fatto quello che una persona intellettualmente onesta deve fare andare a verificare e poi trarre la conclusione ma me l'aspettavo e me lo aspettavo da diversi me lo aspettavo quindi fortunatamente questi diversi non sono la maggioranza e quindi chi ha avuto la bontà di andare a verificare certe immagini certe certe dichiarazioni a tratto delle conclusioni diverse da chi non è andato a verificare e persevera che l'oggetto non sono io naturalmente ma qui si trattava semplicemente di trovare conferma di ciò che sospettavo l'oggetto della discussione è massimiliano allegri l'intento del mio video era appunto quello di mostrare come sono andate realmente le cose l'altro discorso riguarda il futuro di massimiliano allegri che secondo me è sempre più lontano dalla juventus è sempre più lontano dalla juventus di oggi ma non solo di oggi il fatto che la juve avrebbe già contattato o avrebbe contatto nelle ultime ore tiago morta l'ha già fatto una società come la juventus come tutte le grandi società ha il dovere di sentire di sondare di ascoltare di informarsi su una rosa di persone su una rosa dei naturi anni fa io andai perché allora si facevano queste cose solo si fanno più da anni andrea agnelli aveva l'abitudine di organizzare una cena di natale per i giornalisti quelli che seguivano maggiormente la juventus adesso non ricordo precisamente l'anno era seduto quella sera fortunatamente al mio tavolo quindi e in modo di conversare con lui e allora si parlava mi ricordo del povero mi hailovic come possibile allenatore della juventus ricordiamo che siamo a natale ok come un possibile allenatore della juventus o che poteva essere stato allenatore della juventus l'anno precedente adesso non ricordo bene se era una questione riguarda il passato o il futuro e io gli domandai se era vero che la juve aveva il aveva contattato mi hailovic e agnelli mi disse che non solo era stato contattato mi hailovic ma guai se un dirigente della juventus disse guai se i miei dirigenti non tenessero contatti con più allenatori con più persone in vista di un ipotetico cambio cioè dovere di una società e di mantenere i contatti con allenatori che sono ritenuti potenzialmente in grado di allenare la juventus poi magari non se ne fa nulla ma intanto te li tieni lì intanto e dei contatti lo fanno tutte le grandi società e probabilmente anche piccole società quindi il fatto che sia stato contattato tiago motta non è una cosa di oggi tiago motta lo sentono da diverso tempo come sentono anche altri allenatori perché non si sa mai perché non si sa mai se giuntoli dice a un certo punto io ad allegri fare un contratto di sette anni e allegri risponde vabbè sono nato ma sette mi sembrano anche troppi ma poi dopo successivamente al mio microfono come ha fatto domenica sera dice io ho ancora un anno di contratto la mia posizione non ha una priorità vuol dire che per te non ha una priorità ma per la società juve è una priorità altrimenti giuntoli non sarebbe uscito così allo scoperto era un attestato di stima ma al tempo stesso un modo per stanare tra virgolette ma si mi hanno allegri per vedere come reagiva e la reazione di ma si mi hanno allegri non è quella che si che avrebbe voluto la società o comunque la società prende atto non lo ritieni che non ritieni che sia un argomento prioritario per noi lo è quindi o ti decidi al rinnovo a breve ma credo che non succederà oppure la chiudiamo prima di rimando allegri cosa può mettere sul piatto della bilancia ho lavorato mi avete chiesto di costruire una squadra sostenibile che potesse garantire negli anni un ritorno a determinati successi mi piacerebbe però vincere anche subito prova è prova entrare nella testa vado a come dire ad ipotizzare a immedesimarmi e visto che non è così scontato parte che non lo è mai ma la sensazione che questa lui abbia bisogno di ancora tempo per tornare a vincere magari magari vado a vedere altre cose magari mi cerca qualcun altro che mi fa vincere subito non in italia che non credo che allegri andrebbe mai all'inter e credo soprattutto che l'inter non si priverà di simone inzaghi ok sto cercando di entrare nella testa non sto riportando notizie o indiscrezioni ok la notizia o l'indiscrezione è che tiago motta è stato contattato non solo adesso ma anche prima che anche palladino probabilmente è stato contattato sentito così non adesso ma anche prima che altri allenatori sono adesso ma anche prima e la dico terra terra no è come si dice in questi casi lo si fa per pararsi un po il culo l'ho detto no è un modo di dire di tutti i giorni ossia di non farsi trovare impreparati di fronte ad una epilogo magari non così preventivato nell'ultimo istante allegra arriva a fine stagiondice o mi date la squadra vincente ma so che è difficile avere dei fuori classe o comunque avere dei giocatori di un certo spessore per vincere subito oppure chiudiamola qua dopodiché si metteranno eventualmente d'accordo siamo ancora nel campo delle supposizioni secondo me abbiamo fatto un passettino più avanti rispetto alle supposizioni mi sbaglierò e c'è tutto il tempo adesso per dimostrare se è vero se non è vero c'è tempo fino a fine del campionato certo che se non succede entro giugno che la juve rinnovi entro giugno avrà scelto il nuovo allenatore iscrivetevi al canale e ci vediamo domani ciao ciao